Una partita delicata, difficile, perché il Chievo è una squadra forte, che gioca bene, che secondo me nessun modo di giocare non merita essere ultimo in classifica, quindi sapevamo che era una partita tosta, come è stata, penso che non ci hanno regalato nulla e per fortuna abbiamo portato tre punti importanti per continuare questa striscia. Sempre dobbiamo essere preparati quando giochiamo, quando no, quindi questo dimostra che la squadra c'è, che è pronta e ogni uno che gli tocca giocare al titolare, quello che gli tocca subentrare è pronto e per il mister è un'altra qualità enorme, quindi dobbiamo continuare così. Quello che ci chiede il mister è sempre arrivare, attaccare in porta, chiede ai tersini di mettere il cross e dietro la linea noi dobbiamo toccare la porta. In questa situazione era solo Fabio, quindi anch'io dovevo fare questo. Se tu vinci e prendi tre punti ogni giornata ti fa stare lì, questo non vuol dire che possiamo molare, non si imbola niente, non si regala nulla, è difficile, siamo tutti lì, come ho detto settimana scorsa tra 5 e 6 punti siamo 10 squadre e quindi bisogna continuare a lavorare e a recuperare adesso che in tre giorni abbiamo una partita importante.